Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Ragazzi vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi anche su Instagram, detto questo, andiamoci dentro col video. Oggi voglio parlarvi di un caso che mi avete richiesto davvero in tantissimi, probabilmente uno di quei casi che mi avete richiesto da quando ho iniziato a parlare di true crime. Questo caso è avvenuto in Francia nel febbraio del 1933 ed oggi vi parlo del caso delle sorelle Papin. Questa storia inizia a Le Mans, una cittadina del dipartimento di Sartre, situato nella loira francese. Tutto inizia col matrimonio tra una coppia di operai, nell'ottobre del 1901, ossia Gustave Papin e Clemence de Rem. Il matrimonio non è dei migliori, Gustave è un uomo violento, beve e si ubriaca spesso. Ma nonostante ciò, nel febbraio del 1902 nasce la prima figlia della coppia, Emilia. Emilia purtroppo subisce delle violenze dal padre, che nel frattempo continua a stare con Clemence, sua moglie. E infatti ecco che l'8 marzo del 1905 nasce Christine, mentre il 15 settembre del 1911 nasce Lea. Quando Emilia ha dieci anni non riesce più a sopportare i sopprusi del padre. Di conseguenza si confida con Clemence, sua madre. Le rivela il segreto che custodisce da anni, suo padre fa violenza su di lei. Dopo questa terribile scoperta, Clemence decide di lasciare il marito. Ottiene quindi il divorzo nel 1913, mentre Emilia viene mandata in un istituto correttivo. Ora, siamo in un periodo storico profondamente diverso da quello attuale. Gli abusi e le violenze vengono percepite in modo differente agli inizi del 1900. E la colpa non viene mai data a colui che fa violenza, ma alla donna. La colpa è sempre della donna e poco importa che Emilia sia una bambina di dieci anni. Ho letto più volte che Christine e Lea, le altre due sorelle, vengono mandate in un orfanatrofio per superare lo shock del divorzio, che le ha turbate parecchio. Ma in realtà non è così. È vero, Christine e Lea, così come Emilia, non crescono con loro madre. Non vanno mai a scuola e Christine e Lea vengono mandate fin da giovanissime a lavorare come domestiche per delle donne single. La madre le manda a lavorare da donne diverse semplicemente per il doppio stipendio. Avere qualche franco in più sicuramente non guasta. Questo tipo di vita segna profondamente le due sorelle, già traumatizzate da un'infanzia vissuta nella paura, nella sopraffazione e nella violenza. Le due sorelle non lavorano insieme fin da subito. Christine e Lea, prima di ritrovarsi per poter lavorare sotto lo stesso tetto, ci mettono un bel po'. Di conseguenza crescono senza il supporto di una famiglia, di una madre. E purtroppo viene meno anche il supporto che riescono a darsi a vicenda. Arriva il 1926 e Christine e Lea si ritrovano a lavorare sotto lo stesso tetto come domestiche per la famiglia Lancelaine. Per la precisione ci troviamo in Rue La Brouillère, al civico 6. E la famiglia che prende le sorelle in servizio è composta dal capofamiglia, l'avvocato in pensione René Lancelaine, un uomo pacato e tranquillo, un papanto folaio, che si disinteressa della casa e lascia le redini alla sua consorte, Madame Leonie Lancelaine, la quale è piacevolmente immersa nel ruolo di regina assoluta della casa. È esigente, ossessiva, perfezionista. Madame Lancelaine non è una padrona facile per le due giovani e ancora inesperte cameriere. Inoltre le due sorelle non hanno certo un carattere semplice. Christine infatti cresce con un carattere ombroso, difficile, schivo, che la fa apparire sottomessa, ma dietro quei silenzi cova una furiosa rabbia repressa. Lea invece è timida, è scontrosa, passiva e dipendente emotivamente dalla sorella maggiore di cui è totalmente succube. Il punto è che le due sorelle non sono più delle bambine. Christine ha 23 anni, mentre Lea ne ha 17. Madame Lancelaine e Renée Lancelaine hanno anche una figlia di 20 anni di nome Geneviève, che da sua madre ha preso il gusto di tormentare la servitù. Madame Lancelaine è sempre pronta a rimproverare le due sorelle. Le minaccia, le castiga, le insulta, le punisce. Nonostante ciò, Christine e Lea lavorano. I mezzi si susseguono. Inizialmente Christine lavora come cuoca, mentre invece a Lea, che è molto più introversa e rimessiva, viene affidata alla pulizia della casa. Per sei anni le sorelle papiene lavorano duro, con turni di 14 ore al giorno e solo mezza giornata di riposo a settimana. Madame Lancelaine non comunica quella servitù, o meglio, ci comunica lo stretto indispensabile. La donna addirittura dà gli ordini solo a Christine, che poi deve comunicarli a Lea. Ho letto di nuovo che Madame Lancelaine sarebbe solita comunicare gli ordini con degli appunti, senza neanche comunicare con Christine. Questa però è una cosa impossibile, in quanto Christine e Lea non sono mai andate a scuola, non sanno né leggere né scrivere. Madame Lancelaine, oltre ad abbaiare ordini alle domestiche, è anche prontissima ogni giorno a sottoporle ad un rigido controllo, verificando la pulizia delle superfici con un guanto bianco, esaminando attentamente il cibo preparato e sorvegliando le loro abitudini. E c'è da dire che le abitudini delle sorelle papiene sono davvero parecchio modeste. Infatti le sorelle escono solo la domenica per andare a messa. Il resto del tempo lo trascorrono da sole nella loro stanza in soffitta. Le ragazze lavorano davvero molto, ma tra gli anni 20 e gli anni 30 è considerato normale per le persone di servizio essere sempre a disposizione dei padroni. Anche perché l'impiego di domestica offre diversi vantaggi rispetto alla vita da strada, come un tetto sulla testa e un piatto caldo ogni giorno assicurato. Nonostante la mole di lavoro, quindi le due ragazze, eseguono attentamente gli incarichi assegnati da Madame Lancelaine, svolgendo le loro mansioni con umiltà e rispetto. Si guadagnano quindi la reputazione di lavoratrici oneste, anche se c'è qualcosa che non torna. Queste ragazze non mostrano alcun interesse per il mondo al di fuori della loro coppia, né parlano con altri che siano loro stesse. Qui si crea un legame morboso che le porta ad isolarsi da tutto e da tutti. Le due sorelle non hanno che la compagnia l'una dell'altra. Hanno il loro mondo silenzioso e simbiotico. Quel mondo a cui nessuno può accedere. Anche perché durante la sera nessuno fa loro visita. I padroni di certo non entrano nella loro cameretta angusta, insoffitta. E comunque con loro non si va oltre le poche, se necessarie, parole informali, molti ordini e rimproveri. Nel 1929 Madame Lancelaine, commossa dalla dedizione delle sue cameriere, si discosta dalla regola di neutralità estrema che ha stabilito inizialmente mettendosi in contatto con la madre delle sorelle. In questo modo Christine e Lea avrebbero mantenuto il loro salario per interezza, in quanto precedentemente una parte è sempre stata riservata a loro madre. Da quel momento per Christine e Lea, che poco hanno avuto a che fare con l'amore materno, vedono Madame Lancelaine sotto una nuova luce. Per loro non è più un semplice capo, ma una donna che si prende cura del bene e della felicità delle sue dipendenti. Lea e Christine accolgono questo gesto con estremo affetto, che ha stabilito un legame di ordine totalmente diverso da quello del dottore di lavoro e del dipendente. Infatti da questo momento le sorelle, mentre parlano tra di loro in segreto, si riferiscono a Madame Lancelaine chiamandola mamma. Nel 1929 avviene una rottura improvvisa tra le sorelle Papin e loro madre. Le ragazze sostengono che la donna le abbia fatti vivere nell'inferno, non possono assolutamente scordare il loro passato. E da questo momento le due sorelle si riferiscono alla madre naturale chiamandola quella donna. Però questa situazione desta preoccupazione a casa Lancelaine, in quanto le due sorelle diventano più cupe e taciturne del solito. Tutto ciò ovviamente fa montare nelle due sorelle una certa rabbia, al solo pensiero di come loro madre le ha fatte crescere. Le due ragazze in effetti si rendono conto di come non siano assolutamente cresciute con l'educazione impartita da loro madre, bensì dalle varie cape da cui hanno lavorato come domestiche. Il loro fragile equilibrio mentale si sta spezzando. E in effetti si spezza definitivamente quando le due sorelle riflettono sul fatto che Madame Lancelaine con loro inizialmente non è stata affatto gentile. E non è gentile neanche in quel periodo. Loro restano le domestiche, certo hanno il loro salario, ma non ottengono l'affetto che davvero si aspettano da Madame Lancelaine. Christine e Lea già provengono da un'infanzia e un'adolescenza davvero difficile. E sentire i rimproveri di Madame Lancelaine su quanto siano sciatte, svogliate, stupide e inadeguate, rende il tutto ancora più complicato. Soprattutto perché le due sorelle ad un certo punto hanno identificato quella donna come una figura materna. Ormai Christine e Lea vorrebbero solo scappare. Sono passati sei anni da quando lavorano per Madame Lancelaine, di più con un salario fisso mensile. Le due ragazze a questo punto vorrebbero semplicemente andarsene, ma non sanno assolutamente nulla del mondo. Tutto quello che hanno sempre solo visto sono belle case di ricche signore, niente di più. Non conoscono nessuno che possa aiutarle, quindi non sono in grado né di agire né di adattarsi alla situazione. Subiscono passivamente. Immagazzinando però non poco odio e rancore. Ora Christine e Lea vivono nuovamente nel terrore, in quanto basta una sola occhiata per farle tremare. Sono succubi e vittime di una padrona severa, ostile, e poi c'è Geneviève, la figlia. Anche lei è sempre pronta a dar manforte a sua madre, o al contrario è sua madre a dar manforte a lei. Certo, c'è da dire che all'epoca tutto questo era un po' un cliché. La servitù è mal pagata, alloggiata in soffitta, scarsamente nutrita. Ogni permesso, concessione o deroga viene fatta pesare come un privilegio. E, ahimè, non ci sono sindacati a proteggere le sorelle Papen. Hanno voltato le spalle anche a loro madre, non hanno via di scampo. Forse di contro c'è da dire che Madame Lancelaine ci gode un po' troppo a tenere queste ragazze in suo potere, infierendo anche più del necessario, quando neanche troppo spesso le coglie impreparate o incompetenti. Eppure qualcosa di strano c'è, qualche segno è visibile. Detto questo, però, chi l'avrebbe mai detto? Le due ragazze hanno i grembiuri puliti, i capelli raccolti, gli occhi sempre bassi. Poi, ecco che arriva il 2 febbraio del 1933. Per la famiglia Lancelaine, quello è un giorno qualunque. Il pomeriggio, il signor Lancelaine esce di casa per andare a trovare un parente, mentre le signore di casa restano a controllare il lavoro delle domestiche, prima di raggiungerlo. Quindi, la signora Lancelaine e sua figlia stanno per uscire, mentre le due domestiche stanno stirando il bucato. Il vecchio ferro da stiro difettoso manda l'impianto elettrico in cortocircuito, e a quel punto scatta il panico. Lea, che sta stirando la camicetta preferita di Genevieve, si rende conto che, ora, è rimediabilmente rovinata. Christine tenta di consolare sua sorella, mentre attendono l'arrivo impetuoso delle due donne di casa. Sanno che la punizione sarà terribile, ma allo stesso tempo sono consapevoli che le padrone hanno sempre preferito attribuire i danni di stiratura all'incompetenza e all'incapacità delle ragazze. Per di più, c'è anche il danno economico, in quanto, all'epoca, quando saltava il contatore, non si poteva di certo ripristinare la corrente da casa come oggi. In quegli anni, i fili elettrici, in caso di cortocircuito, si spezzavano e per ripristinare la corrente, era necessario l'intervento di un professionista per ricollegarli uno ad uno. Presto, Madame Lancelaine e sua figlia si rendono conto che è stata la corrente, e si andrò anche un forte odore di bruciato. Corrono quindi nella stanza in cui le sorelle sono solite stirare, ma non le trovano. Genevieve però vede la sua camicetta rovinata e si infuria ancora di più. Le due donne di casa quindi corrono al piano superiore, verso la camera da letto delle due sorelle. E in effetti, Cristina e Lea sono a letto, scarmigliate e senza vestiti. Alla loro vista, le due padrone di casa si infuriano ancora di più. Non è possibile, come si permettono di farsi vedere in quelle condizioni, in pieno giorno, dopo aver creato un problema così grave come un cortocircuito. Per non parlare della camicetta di Genevieve, le due sorelle ascoltano passivamente le urla, le accuse, la frustrazione in loro, però non fa che salire. Sale fino alle stelle e le porta a compiere un gesto atroce. Cristina, che bisogna ammetterlo, ha sopportato davvero l'impossibile, entra in uno stato che, al tempo, hanno definito follia, mentre oggi probabilmente lo chiameremmo stress post-traumatico, causato da anni di abusi e sopraffazioni. Quindi, la maggiore delle due sorelle si scaglia come una furia a mani nude su Madame Lancelaine e con la sola forza dei pollici le cava gli occhi dalle orbite. Madame Lancelaine si accascia a terra. Elia, in uno stato di trance, incitata dalla sorella, ripete il terribile gesto avventandosi su Genevieve. La giovane padrona ferma sulle scale, pietrificata dall'orrore. Le sorelle Pappin finiscono le due donne a colpe di martello, infierendo sui loro corpi con oggetti contundenti di vario genere, compreso un coltello e un sottovaso di bronzo. Dopo la furia, ecco che sopraggiunge una folle calma. Infatti, le sorelle lasciano i corpi delle signore sulle scale, salgono lentamente ai piani superiori, si sfilano le camicie da notte in trise di sangue e si rimettono a letto, senza vestiti. Intorno alle 18.30, il signor Lancelaine, non avendo notizie della moglie e della figlia, torna a casa per capire cosa abbia trattenuto le due donne. L'avvocato prova ad aprire il portone, ma si rende conto che è sbarrato dall'interno. Prova comunque a bussare perché nota una candela accesa nella stanza delle domestiche. Nonostante ciò, nessuno gli apre. Così, il signor Lancelaine torna sul posto con gli ufficiali che forzano la porta d'ingresso di casa sua. Oltre la porta, le autorità e il signor Lancelaine si trovano davanti un lago di sangue che guida gli agenti fino al raccapricciante spettacolo dei corpi martoriati di madame Lancelaine e di sua figlia. Agli occhi degli agenti pare che una belva si sia avventata sulle due donne. Madre e figlia giacciono a terra con i volti completamente sfigurati, gli occhi sono stati cavati. I poliziotti a questo punto si precipitano al terzo piano convinti anche di ritrovare i corpi delle domestiche. Ma, in realtà, trovano anche in quel caso la porta chiusa. Quella porta è chiusa a chiave quindi forzano la serratura e scoprono le sorelle Papin a letto, abbracciate, con il martello ancora sporco di sangue ai piedi del letto. Le due sorelle vengono quindi trascinate via dalla polizia e incarcerate in due prigioni diverse in attesa di processo. Alle soglie del rito giudiziario la pressione del pubblico e della stampa è enorme e tutta la Francia segue lo svolgersi del processo con estremo interesse. La mancanza di movente per questo delitto emerge dal fatto che in più occasioni durante il processo le due sorelle hanno ripetuto di non avere assolutamente nulla da rimproverare ai loro capi in quanto possiedono parecchi risparmi e se avessero voluto cambiare lavoro avrebbero potuto farlo tranquillamente. Le sorelle sostengono che erano ben nutrite che il loro alloggio era perfetto. In tutti i sei anni di servizio non hanno mai chiesto un'autorizzazione per uscire. Mai! Non hanno mai fatto conoscenza con un ragazzo o con la servitù delle case vicine né con i commercianti del distretto che in effetti le trovano alquanto strane. Non è chiaro se si sia trattato di un atto premeditato o di un raptus improvviso di follia anche se il pubblico ministero evidenzia il motivo per cui un martello e dunque il tello avrebbero dovuto essere così opportunatamente a portata di mano delle due sorelle. Poco importa comunque l'opinione pubblica già prima dell'inizio del processo e contro le due ragazze che hanno osato sovvertire le regole sociali dell'epoca. Non c'è nessuna pietà per le sorelle Papen vittime della miseria e della crudeltà umana. Tutti chiedono a gran voce la pena di morte per entrambe però la pena capitale non veniva applicata dal 1887 e nel 1933 nessuno la vuole ripristinare quindi Cristina è formalmente condannata a morte per poi essere subito graziata con la commutazione della pena capitale e i lavori forzati a vita. Lea invece durante il processo è apparsa catatonica e senza nessun tipo di reazione segue perenemente le gestualità della sorella come un'automa quindi viene condannata a soli dieci anni. La Francia assiste sconvolta ai funerali delle povere vittime poi al processo è una domanda a legge nel cervello di chiunque perché? Psichiatri scrittori e filosofi cercano risposte diverse alcuni riconducono quel crimine alla lotta di classe tra popolo e borghesia i lavoratori senza diritti cavano gli occhi ai loro padroni annientando tutto ciò che rappresentano questa è la lettura ideologica di questo crimine eppure sia in tribunale dove viene celebrato il processo che fa discutere tutta la nazione sia negli ambienti accademici dove il delitto viene analizzato dal punto di vista criminologico appare centrale la componente intima le due sorelle hanno un rapporto ambiguo in quanto essere entrambe vittime di un padre violento e abusante ha fatto assumere nelle due dei connotati intimi tanto che quando vengono separate per la detenzione Christine la sorella maggiore ha una vera e propria crisi che la porta a tentare a sua volta di cavarsi gli occhi altre volte ha delle crisi epilettiche quindi le guardie decidono di ricongiungere Christine e Lea quest'ultima però la respinge fredda come il ghiaccio per Christine probabilmente è stata questa la vera punizione la condanna più crudele Christine apparentemente più forte lontano dalla sorella muore dopo soli tre anni al manicomio criminale di Ren Lea invece ha una seconda chance sconta la sua pena mansueta senza ribellioni né reazioni ubidisce passiva fa quello che le dicono di fare in pratica fa quello che le è stato insegnato da sempre sopravvive al termine della condanna torna a vivere con sua mamma e a fare la domestica per delle famiglie benestanti ovviamente sotto falso nome detto questo ragazzi ragazzi questa era la storia delle sorelle papen spero ovviamente che questo video possa essere stato di vostro gradimento detto questo ragazzi io vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ciao ragazzi ciao ragazzi